basta basta me ne vado hai capito me ne vado è inutile che piagni è inutile ma chi sta piagni io sta tagliare la cipolla a sta tagliare la cipolla vabbè a me mi interessa tutte così dico non basta ti ho detto che me ne vado me ne vado via da sta casa tu non la vedi più hai capito non la vedi più senti carina ciao ma ciao adesso sai che ti dico allora vediamo subito ecco qua sì ma non mi fa perdere tempo sì allora il panama mo pio io mi porto via questo il vassoio è mio è il bastoglier mio no questa è di mia madre ci sono affezionata hai capito ah ti sei affezionata te credo cosa che c'è che tu sei materiale ecco perché sei una donna sola sei una donna piccola e certo c'è la cucchiarella e giocaci con qua cucchiarella ma meno a te te c'è meno a te ma sta bene vado via non voglio più sta dentro sta casa anzi a proposito quello che è mio e mio e quello che tu e allora dividiamo se stiamo dunque che me devo portare a dimmi che me devo portare aspetta aspetta è il televisore la lavastoviglie la lavatrice e le mollette per i vanni e poi i cucchiai e poi le forchette e il servizio dei piazzi questa è roba mia tu c'hai sto vassoietto che ho sempre detestato e sto coso di canapa di che questa è roba tua questa è roba mia vabbè allora sai che ti dico che io non la voglio la roba mia io te la lascio a te no portatela via per carità no te la lascio a te questa è roba mia e te la lascio poi non ti ho lasciato niente ciao tante belle cose certo tante belle cose aspetta un attimo che belle cose che voi che voi ancora che voi ma è stupato sto pagando le cipolle voglio solo un favore da te sì dimmi ti prego non mi lasciare ti prego non mi lasciare ti è qua Giulia l'ho fatta apposta come si fa come si fa un applauso a Giulia Costantini aiutatemi